Tra il 14 e il 16 agosto il Piemonte è stato raggiunto da sabbie sahariane, in arrivo da est, che hanno determinato il innalzamento delle concentrazioni delle PM10 su quasi tutta la regione. Il 15 agosto i valori del PM10 erano prossimi al limite giornaliero di 50 microgrammi al metro cubo in alcune stazioni della rete della qualità dell'aria del Piemonte, mentre il 16 agosto il limite giornaliero è stato superato ad Alessandria, Novara e a Vercelli. In altre stazioni, come ad esempio Tortona, Chieri, Torino e Baudengo, i dati erano alti rispetto ai riferimenti del periodo, ma non hanno superato il limite. L'effetto dell'anticiclone africano che ha trasportato sull'Europa meridionale queste caratteristiche polveri rosso-arancioni di provenienza sahariana è ben visibile dai filtri prelevati dalle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di Arpa Piemonte.